Allora, ciao, innanzitutto complimenti. Una curiosità è questa, una grandissima pennellata. Quando si ottiene una punizione così al novantesimo ci si crede? Cioè hai creduto, nel senso hai pensato questo sarà il 2-1. Noi dalla tribuna ci abbiamo pensato, abbiamo detto ecco, questo sarà il sigilo definitivo della vittoria. Certo che ci ho creduto perché mi sono allenata tanto e quindi ringrazio anche tutti i portieri del Parma che sono quattro perché tutti gli allenamenti ho bisogno di loro e mi hanno aiutato anche tanto quindi grazie particolarmente a loro. E certo che ci ho creduto perché so che ne ho già messo, potevo farlo e sono troppo felice perché chiudiamo la partita con una vittoria. Avevamo bisogno di questi tre punti quindi sono contenta. Domenica andate a Firenze se non mi sbaglio, capolista però non vi fa paura. Il Parma visto oggi non ha paura di nessuno. Certo, dobbiamo prepararsi per affrontare tutte le squadre. Sappiamo che è un cambiamento molto difficile e non dobbiamo avere paura. Avevamo bisogno di questi punti per il nostro percorso, per prendere fiducia. E quindi sì, ora è il tempo di riposare e già da domani la testa a Firenze è certo che andiamo lì per fare qualcosa. Volevo chiederti che ricordo hai di Sassuolo e perché hai scelto il Parma e dove potete arrivare poi quest'anno? Allora io ho un bel ricordo del Sassuolo perché io sono francese e sono arrivata in Italia l'anno scorso quindi il Sassuolo è la prima squadra all'estero e italiana che mi ha aperto le porte quindi per questo io sarò sempre grata. Poi sono felice della scelta del Parma perché abbiamo un presidente che ci crede tanto una società che ci crede tanto e non è scontato nel calcio femminile e quindi sono molto contenta di aver scelto Parma e andiamo avanti così. Ciao Alice, ti ha detto qualcosa Mr. Piovani dopo la punizione e in che cosa ti ha migliorata l'anno scorso? L'anno con lui che cosa ti ha fatto migliorare? Grazie. Cosa mi ha fatto migliorare? Tante cose sul mio gioco a livello tattico soprattutto perché sappiamo che l'Italia a livello tattico secondo me è in anticipo rispetto almeno alla Francia che conosco quindi a livello tattico tanto e in più è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre quindi sì, tanto a livello tattico soprattutto anche tecnico però sì, ho dei bei ricordi. Se non ci sono altre domande ringraziamo Alice Benoit autrice del gol del 2-1 e facciamo un nuovo cambio alla nostra postazione dove invito il Mr. Fabio Ulderici grazie mille